Per cambiare il dispositivo in uso associato alla verifica in due passaggi, scarica l'app Aruba Pack dallo store ufficiale sul nuovo dispositivo. Google Play e App Gallery per Android, Apple Store per iOS. Se hai già scaricato l'app, ti basta verificare che sia aggiornata all'ultima versione. Apri l'app e inserisci le credenziali di accesso della casella Pack per la quale desideri cambiare il dispositivo associato. Si visualizza la seguente schermata di conferma autorizzazione all'accesso. Sul vecchio dispositivo si riceve una notifica per autorizzare l'accesso all'app Aruba Pack. Premi su Autorizza e conferma la tua identità con il sistema di protezione impostato sul dispositivo, PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale. Sul nuovo dispositivo abilita la modalità di riconoscimento, PIN o biometria da te utilizzata per lo sblocco del telefono e le notifiche push. Se queste impostazioni risultano già attive, passa allo step successivo. Adesso il sistema ti chiede se desideri associare il dispositivo. Tocca Associa a questo dispositivo e nella schermata successiva conferma la scelta. Sul vecchio dispositivo si riceve una notifica per autorizzare l'accesso all'app Aruba Pack. Clicca Autorizza. Sul nuovo dispositivo conferma l'identità con il sistema di protezione impostato. Ben fatto! Il nuovo dispositivo è stato associato con successo. Verifica il corretto funzionamento dell'associazione del nuovo dispositivo accedendo webmail.pec.